Sono materiali. Ecco, voi avete più volte organizzato convegni portando qui il sistema VedeLago. Io non per autoreferenzialità, però ricordo ai nostri telespettatori che 5 anni fa più o meno questa emittente ha realizzato proprio uno speciale sul Veneto e sul modello VedeLago. Nello specifico, come dovrebbe allora funzionare un buon sistema di raccolta differenziata? Un buon sistema di raccolta differenziata innanzitutto prevede dei passi molto precisi. Innanzitutto l'amministrazione, sia quella provinciale, sia quella comunale, sia quella regionale, devono stabilire delle regole precise per ridurre i rifiuti a monte. Le aziende devono capire che quello che loro producono non può essere riciclato oppure sono di rifiuti tossici. Come possiamo pensare che un'azienda produca dei rifiuti tossici? Cioè, è assurdo. Quindi quell'azienda che produce dei rifiuti tossici deve chiudere domani mattina. Quello che noi diciamo è che semplicemente bisogna fare un impianto di riciclo VedeLago. Ci vogliono 5 milioni di euro, che se noi li paragoniamo agli 8 miliardi che sono passati in regione, ci mettiamo a ridere, perché semplicemente basterebbe che lo stir attuale, cioè quello che fa le coballe attualmente, si trasformasse in centro di riciclo VedeLago. Ci vogliono 5 mesi con 5 milioni di euro ed è pronto a partire domani mattina. Noi possiamo gestire tutti i rifiuti della campagna. E poi non ci dimentichiamo una cosa importante. Gli impianti di compostaggio. Il 40% del rifiuto è rappresentato dagli impianti di compostaggio. Se tu vai a Pietramelina, a Perugia, dal compostaggio ricavano l'energia addirittura. Quindi cosa stiamo aspettando? Io lo chiedo sempre ai nostri amministratori attuali, ai nostri dipendenti, alla provincia, che facciano quello per cui sono stati eletti. Cioè salvaguardino gli interessi dei cittadini. Ricordiamo anche ai nostri telespettatori che la parte umida, la frazione organica che raccogliamo in questa provincia finisce tra Calabria e Sicilia. Perché l'unico impianto... No, in realtà nessuno lo sa. Perché se tu vai oggi a chiedere al vice sindaco, oppure puoi andare a chiedere anche ai consiglieri comunali dove va a finire il nostro umido, questa cosa nessuno la sa. Un cittadino normale dovrebbe andare su internet, un cittadino che lavora tutti i giorni, non è il tempo di preoccuparsi anche di questi problemi, deve andare su internet e poter vedere, quando lo vuole sapere, dove vanno a finire il proprio umido, la propria plastica, i materiali che lui scarta, dove vanno a finire. Oggi, ad oggi, non c'è nessun posto dove si può sapere questo tipo di statistica. Quindi noi chiediamo anche una trasparenza a livello istituzionale. Se le istituzioni devono essere trasparenti, se vogliono veramente avere a che fare con i cittadini. Questo è il primo problema. Ecco, intanto ad onor di cronaca dobbiamo anche ricordare che questa provincia è stata la prima in campagna ad avere, ed è l'unica ad avere in campagna, un impianto di compostaggio, che è quello di Teora, fermo in questo momento per lavori di ampliamento, ma nella migliore delle ipotesi potrebbe essere a supporto solo della provincia di Avellino. Voi avete fatto anche un conto economico di quanto con la differenziata... Noi abbiamo avuto una collaborazione molto forte con il Comune di Mercogliano, però attualmente si è stabilizzata a causa del passaggio della gestione dei rifiuti dal Comune alla provincia grazie alla legge 26 del 2010, della legge dello Stato. Il conto che abbiamo fatto è che il Comune di Mercogliano potrebbe risparmiare i soldi di conferimento alla discarica, in più incassare con la vendita dei materiali di scarto con una raccolta differenziata spinta, 26 mila euro. Quindi il risparmio di 2 milioni di euro di conferimento alle discariche agli inceneritori e l'incasso di 26 mila euro. Questo è quello che abbiamo creato con i nostri ingegneri e gli esperti che si occupano. Ecco, perché dire no agli inceneritori? Ci sono anche in Veneto, dove c'è Vede Lago, dove ci sono sistemi di raccolta differenziata molto avanzati e tra l'altro molto datati, parliamo di decenni. Esatto, gli inceneritori infatti sono una cosa di decenni. Ma a Padova c'è uno dei primi inceneritori in Italia. Hai detto benissimo, hai ragione, perché è uno dei primi inceneritori perché tanti anni fa non c'erano le conoscenze che ci sono oggi. Attualmente un'assa per un inceneritore andrebbe deserta se non ci fossero i chip 6, perché i chip 6 sono quella parte, quella quota che noi in bolletta stiamo dando all'energia rinnovabile, ma che in realtà va a finire all'inceneritore. Quindi sono una truffa bella e buona, perché l'inceneritore non è nessuna energia rinnovabile, sta semplicemente avvelenando le persone che ci sono vicino. Ti ricordo che ci sono degli studi degli oncologi, una su tutte la Gentilini, che ha fatto degli studi sull'inceneritore di Forlì e ha scoperto un'incidenza enorme di cancro nei pressi dell'inceneritore. Quindi i discarichi dell'inceneritore ci dobbiamo levare dalla testa, perché oggi è possibile con la strategia rifiuto a zero. Non è difficile, basta cominciare a fare la raccolta spinta. Come tu sai, l'Avellino è già quinta, come statistica ISTAT, per riciclo. Cioè siamo a 62% del riciclo. Quindi i cittadini sanno bene che questo è arrivato il momento di farlo subito. Il problema è che se tu un cittadino che fa una raccolta differenziata così lo premi con un aumento della Tarsu, perché il comune di Avellino ha aumentato la Tarsu, destra e sinistra, quindi non c'è un colore politico, il problema è qui, se tu non premi i cittadini, non potrai mai avere i risultati che vuoi. Devi stimolare le persone. A Vedelago pagano 80 euro, una famiglia di 4 persone paga 80 euro all'anno per la gestione dei rifiuti. Io penso che dovremmo arrivare a queste cifre.